Alessio ha 22 anni e sabato scorso, come tutti i ragazzi della sua età, decide, approfittando della bella giornata, di andare in giro per la città prendendo l'autobus. Abita a Falso Miele, una zona poco servita dai mezzi pubblici, ma lui lo sa e, come ogni palermitano, scende da casa con largo anticipo, aspettando il 368. Passa un'ora e alle 16.40 arriva finalmente l'autobus. Ad Alessio però il conducente spiega che la pedana che gli avrebbe permesso di salire a bordo si deve azionare manualmente e, poiché non ha i guanti, l'operazione non può essere effettuata e bisogna attendere un altro autobus. Un bel problema perché Alessio è tretta preggico dalla nascita e tutti i giorni Palermo e le sue barriere architettoniche non fanno altro che ricordargli quanto sia difficile vivere in carrozzina. A malincuore decide di continuare ad aspettare sul marciapiede ed ecco arrivare, dopo parecchi minuti, un altro autobus. Anche questa volta il conducente non ha i guanti, ma questo non lo scoraggia e con un pezzo di giornale estrae la pedana, permettendo così anche ad Alessio di salire a bordo ponendo fine alla sua odissea. Il caso di Alessio è l'emblema di una città che troppe volte ignora i diritti dei più deboli. In serata abbiamo contattato il direttore generale dell'AMAT, l'ingegnere Domenico Caminiti, che ha espresso a nome dell'azienda profondo rincrescimento per l'accaduto, assicurandoci un'indagine interna. L'obiettivo dell'AMAT ha spiegato è quello di garantire a tutti i cittadini, soprattutto a coloro con mobilità ridotta, non solo l'accesso sulle vetture ma un servizio puntuali in termini di tempo ed efficienza. In effetti avevamo già visitato il sito internet dell'AMAT dove abbiamo trovato una carta della qualità dei servizi. L'azienda si legge e si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che limitano l'uso del trasporto pubblico ai soggetti più deboli, favorendo così l'accessibilità ai mezzi ai disabili e altre categorie disagiate. Sappiamo anche che la sostituzione dei vecchi bus con i nuovi mezzi che sono dotati di doppio sistema di accesso a bordo per disabili, elettromeccanico e manuale, sta procedendo e al momento il 75% del parco mezzi presenta pianali ribassati e pedane. Speriamo quindi che di disavventure come quelle di Alessio ne capitano sempre meno in una città come Palermo.